Grazie Presidente, io insisto nel dire che questa giunta lavora in maniera ermetica, non informa i consiglieri comunali, magari lascia qualche informazione in più alla stampa, i consiglieri comunali devono attingere da giornale se lo acquistano, altrimenti non hanno nessun diritto attraverso il sistema che ha creato questa amministrazione, cioè quello della non informazione. Per cui arriviamo al consiglio comunale, certamente in maniera logica noi siamo l'opposizione, io sono l'opposizione e sono qua per controllare nel nome del popolo cosa fa l'amministrazione comunale dei soldi dei cittadini, faccio il mio mestiere, il carabinieri e il consiglio comunale. Consigliere Moro, intervengo in quanto Presidente della prima commissione, volevo ricordare al consigliere Floreano, a livello di informazione e di amministrazione da app, si sono chiedute ben due commissioni, due prime commissioni su questo argomento e tra l'altro non lo vado a vedere, il proprio consigliere Floreano che l'ha sempre alla seconda, quindi quando dice che non ci sono informazioni, l'aspettavo, l'aspettavo, finisco, l'aspettavo. A proposito dell'ultima eccezione che ha ricordato, cioè capire che convenzione c'è, ho ricordato che dei consiglieri hanno chiesto che in prese e convenzione i punti principali della convenzione, perché regolarmente l'assessore ha dato risposta, quindi se voleva le informazioni e le commissioni lo è regolarmente invitato. Per fatto personale posso parlare di consigliere Floreano? Ciao signor consigliere Floreano, grazie. Carissimo Presidente, non so che cosa, ma è un Presidente a lei, in tanti in Italia sono più Presidenti, hanno un'importanza tremenda, i Presidenti. Quando io parlo con il signor Sindaco e dico che non ho informazione, volevo evitare la sua premura, per farmi fare una brutta figura, ma da quando mi è stato tolto il diritto di essere capogruppo del mio gruppo, perché il diritto me l'hanno dato i miei elettori, non ho più avuto informazioni né dal centro-destra né dal centro-sinistra, né dall'amministrazione, per cui adesso divento anche cattivo, perché io quelle riunioni gliele farò ripetere, perché io non sono stato invitato da quando l'amministrazione ha deciso di invitare i consiglieri comunali tramite Facebook, Internet e non so quale altra diavoglia mi inventate, io non sono mai stato inventato. Quando lei scrive assente, si informi prima se sono stato invitato alle riunioni o se sono stato escluso, io sono stato escluso, lei come Presidente ha tutte le cause.